Ripartono i treni storici sulla ferrovia del centro Italia tra Sulmona, L'Aquila e Rieti. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Pallenium in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato e l'Associazione Le Rotaglie ripropone un itinerario che si snoda tra i binari dell'Italia centrale, tra borghi incontaminati e luoghi di grande fascino. Il primo appuntamento è previsto per domani, domenica 27 marzo, ed è già sold out. Il calendario completo è consultabile sul sito fondazionefs.it e propone numerose date dal mese di aprile fino al prossimo novembre per 12 viaggi complessivi. Il programma turistico consentirà ai viaggiatori di percorrere a bordo delle storiche vetture degli anni 30 i binari che collegano Abruzzo e Lazio, toccando L'Aquila, Sella di Corno, Antrodoco e Rieti. L'arrivo del treno nella città lasiale è previsto alle 11.20. Dalla stazione poi partiranno dei tour dedicati alla scoperta delle bellezze della città reatina. Il treno storico ripartirà da Rieti alle 17.15, con arrivo a Sulmona previsto per le 19.47. Per conoscere le modalità di acquisto dei biglietti e tutte le informazioni relative ai prossimi eventi nel treno storico, è possibile consultare il sito www.fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. Grazie a tutti!